ben ritrovati amici di the wine channel un piccolo video per farvi gli auguri di una serena e buona pasqua ovviamente dobbiamo restare a casa però nulla ci impedisce di poter degustare una ottima bottiglia di vino accompagnato a qualche piatto tipico locale o a tutto quello che voi desiderate degustare e mangiare in queste giornate quindi passate una buona pasqua possibilmente con i vostri cari se abitate insieme altrimenti a distanza vi ringrazio approfitto per ringraziarvi dei tutti gli iscritti al canale per tutte le domande per tutti i commenti che fate sotto i miei video e ci vediamo prossimamente con un nuovo video e vi rimando ancora i miei più sentiti auguri un ciao da francesco e da the wine channel